Negli studi di TV City, il dottor Giovanni Damiano, sabato sarà inaugurata al Circolo Nautico di Torre del Greco, un'importante mostra di pittura. Questa mostra mi è stata quasi richiesta dal Circolo Nautico di cui sono socio e quindi ho recuperato tutti i quadri che ritengo degni per un'esposizione, non solo, ma mi sono attivato per cercare di avere indietro in prestito tutti i quadri venduti nel corso degli anni in cui ho fatto delle mostre e quindi me le sono fatte riprestare in modo che poi io li scelgo naturalmente a mostra fatta. E ho trovato moltissima disponibilità presso gli acquirenti o presso gli amici che avevano acquistato i miei quadri nel portarmi a casa i loro quadri, nel metterli a disposizione per la mostra. E questa è stata anche una manifestazione di affetto e di stima nei miei confronti per cui sono grato a loro e li ringrazio. C'è un tema che accomuna questi quadri? Da autodidatta non ho un tema, il tema è dettato da quello che vivo, dal mio vissuto. A me è interessato l'uomo e quindi faccio molti ritratti e naturalmente perché sono figlio di contadino, la campagna rientra nella mia pittura come paesaggio, come sfondo, come panorama in cui sono inseriti questi personaggi, quando non sono da soli nel vuoto. Io ho sempre avuto questa passione per la pittura. Per me è stata una passione, addirittura un'ossessione, per cui io dipingevo su tutti i foglietti a portata di mano. Il fatto poi di non aver fatto la scuola mi ha lasciato quella libertà assoluta, per cui io mi sono affidato al mio minimo talento e ai miei sentimenti. E quindi ho espresso quello che sentivo, come lo sentivo, senza preoccuparmi della forma. Ho cercato di trarre soltanto lo spirito, l'espressione, l'anima, soprattutto la sofferenza, perché la sofferenza è quella che dà espressione all'individuo. Più che l'allegria, che fa l'individuo molto superficiale, è la sofferenza che dà sostanza alla figura. L'ingresso alla mostra sarà libero e interverrà anche un critico d'arte. Certo, l'ingresso alla mostra sarà libero. Interverrà un relatore che è un critico d'arte, tra l'altro è un mio ex paziente che io ho seguito fin dalla nascita ed è diventato un ottimo critico d'arte e quindi mi fa anche piacere averlo. È come stare in famiglia, insomma, averlo con me quel giorno. Mi piace dire, a conclusione, che essendo figlio di contadino, nato in condizione di grosso disagio, sono andato a scuola a dieci anni perché solo a dieci anni mia madre è riuscita a convincere mio padre a mandarmi a scuola. Tanto è vero che nel mio libro più importante c'è questa dicitura «Sullo per mamma mia sono chiusa a scuola, sulo per mamma mia faccio poeta, se no sarri pure in un campagnolo, pure in un caffone analfabeto». Che cosa voglio dire? Che se c'è passione, se c'è voglia di sacrificarsi, se c'è veramente curiosità, ma passione forte, si può realizzare qualunque sogno anche in condizione di disagio. E questo è il messaggio che vorrei dare a tutti i ragazzi, quello di crearsi una passione. Perché quando si lavora con passione il lavoro non pesa e si fa tutto con piacere. E tutto si può realizzare se si vuole. Fino a quando sarà visitabile la mostra? La mostra inizierà il 19 novembre e finirà il 31 dicembre. Ringrazio naturalmente il presidente del circolo nautico, il dottore Gianluigi Ascione, e il circolo nautico tutto, tutto il consiglio direttivo del circolo nautico per avermi invitato a fare questa mostra e per avermi dato questa occasione. Grazie Grazie